Siamo negli studi di Ascanews con Sandro Gozzi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per gli affari europei, l'uomo da cui passano tutti i più scottanti dossier europei. E cominciamo forse dal più scottante, quello sull'immigrazione. C'è stato, dopo la tragedia sulle coste libiche, c'è stato un maggior impegno dei paesi europei, che stanno mandando navi, che stanno mandando supporti logistici. Però ancora ci sono dei capitoli da aprire, quello per esempio della distribuzione degli immigrati nei vari paesi europei, rivedendo l'accordo di Dublino, e le trattative con l'ONU per la distruzione dei barconi. A che punto siamo, sottosegretario? In tutto, come lei diceva, c'è stata una risposta importante legata all'emergenza, e quel vertice che è stato convocato sull'iniziativa di Matteo Renzi ha fatto certamente un passo avanti nell'affermare il principio che il Mediterraneo è una frontiera europea, e quindi l'operazione Triton deve diventare un'operazione più efficiente europea. Questo è un passo in avanti, e su questo stanno arrivando sia mezzi, e dovranno arrivare anche ancora più fondi. Dalla Unione Europea, in particolare dalla Commissione Europea, adesso nell'Agenda Europea per la Migrazione, che verrà presentata il 13 maggio, ci aspettiamo non di nuovo una serie di principi, quelli li abbiamo già stabiliti, prima durante il nostro semestre di Presidenza, penso alle conclusioni del Consiglio di Ottobre-Lussemburgo, poi per l'emergenza al vertice. Ci aspettiamo delle risposte operative, cioè la Commissione deve dirci come, in maniera concreta operativa, realizziamo la distribuzione dell'onere per quanto riguarda i richiedenti asilo. Cosa possibile oggi? Certo, su base volontaria ancora, in base alle regole esistenti, ma come lo vogliamo fare? Quale idea ha la Commissione per sviluppare una politica di immigrazione economica legale a livello europeo, magari con delle quote, anche per l'immigrazione legale, non solo per i richiedenti asilo a livello europeo distribuite tra gli Stati membri? Perché questa è una risposta politica, è evidente che l'immigrazione è emergente rispetto ai richiedenti asilo, emergente rispetto alla lotta contro i trafficanti di esseri umani, e il Ministro Gentiloni ha preso proprio delle iniziative per spingere l'ONU a rapidamente adottare una risoluzione in tal senso. Però è anche risposta politica di più medio e lungo periodo. Come gestiamo, e possiamo farlo solo a livello continentale di Unione Europea, il tema dell'immigrazione economica legale, non da subire, ma da gestire e da governare, e come veramente otteniamo una cooperazione concreta dai paesi di origine di transito? Sappiamo benissimo che questa è parte della risposta, ma come lo facciamo, quali misure operative, e come le politiche di sviluppo e l'assistenza economica che l'Unione Europea dai paesi africani viene legata a un impegno da parte di questi paesi nel congestire i flussi migratori. Sono queste le risposte che ci aspettiamo dalla Commissione, oltre anche a sfruttare tutti i margini di flessibilità che ci sono nel regolamento di Dublino, c'è la possibilità di favorire i congiungimenti familiari, c'è la possibilità di superare le rigidità di Dublino per quanto riguarda i minori non accompagnati. In realtà già Dublino, sempre su base volontaria, consentirebbe di superare la regola per cui il paese di prima prodo è quello che si deve fare carico di tutte le richieste. Quindi già adesso la Commissione dovrebbe spingere per sfruttare tutta la flessibilità esistente nelle regole attuali. È chiaro che vorremmo anche delle proposte alla Commissione su come superarle, magari con un principio di mutuo riconoscimento, per cui il riconoscimento dello status di rifugiato in un paese viene automaticamente riconosciuto dagli altri e questo sarebbe il superamento di un impianto di Dublino che è obsoleto, concepito negli anni 90 in un'altra epoca storica.